Il giornale dei lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade in cantiere. L'articolo 14 del decreto ministeriale 49 del 2018 disciplina in maniera compiuta gli elementi da annotare quotidianamente sul giornale dei lavori, ossia l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quetanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici, l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili, le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche o da aggiunte ai prezzi. Lo strumento del giornale dei lavori riporterà quindi la vita quotidiana del cantiere, permettendo di avere un documento nel quale tutte le figure coinvolte, a vario titolo nell'esecuzione dell'opera, possano intervenire nella gestione dell'opera, compilando, per quanto di loro competenza, le diverse parti del giornale dei lavori. Il direttore dei lavori verificherà l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiungerà le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che riterrà opportune, apponendo data e firma. Euclide 2019 propone all'interno della scheda Home il pulsante Giornale dei lavori, che visualizzerà a sinistra il quadro omonimo con tre distinte sezioni e il quadro relativo al calendario, riportante le registrazioni avvenute per il giorno selezionato. La pagina Organigramma di cantiere permette di definire tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'opera. Sono previste un certo numero di figure professionali predefinite. In aggiunta è possibile inserire un numero illimitato di altri soggetti, ciascuno con una propria qualifica definibile dall'utente. Sarà possibile associare ad ognuno la relativa email e decidere, tramite l'immissione di apposito flag, se tale soggetto parteciperà al giornale dei lavori online. Nella tabella delle risorse del giornale dei lavori andranno indicati tutti gli operai, i mezzi e le attrezzature impiegate nel cantiere. Per ciascuna risorsa è possibile indicare la descrizione, ad esempio nominativo dell'operaio o tipologia di automezzo e l'impresa di appartenenza tra quelle indicate nell'organigramma del cantiere. Da tale tabella sarà successivamente possibile selezionare giorno per giorno, per mezzo del calendario, le risorse utilizzate, con l'indicazione della relativa quantità in ore, per completare la sezione e risorse impiegate del giornale dei lavori. Selezionando il giorno desiderato nel quadro calendario, premendo la voce di comando Inserimento registrazioni per il giorno, sarà possibile indicare per ciascun giorno di operatività del cantiere, condizioni meteo, ordine, modo e attività con cui progrediscono le lavorazioni, documenti, eventi ed osservazioni, inserendo una semplice annotazione sul giornale. Tale sezione è perfettamente integrata col registro documenti. È possibile infatti appendere e completare i diversi documenti messi a disposizione da Euclide e specificare, attraverso le funzioni presenti nel pop-up menu associato al tasto destro del mouse, se un documento risulti essere visibili nel giornale dei lavori e o nel registro documenti. Ed in più permette l'inserimento di semplici annotazioni sul giornale. Per ogni documento è inoltre necessario indicare un redattore, ed eventualmente specificare se apporre la firma nella stampa del giornale dei lavori. Nella sezione Risorse impiegate è invece possibile, prelevandole dalla tabella delle risorse, indicare quali risorse sono impiegate, indicando le relative ore, per quel determinato giorno. Attraverso la funzione Stampa, stampa giornale dei lavori, sarà possibile produrre l'elaborato in formato PDF, Word, RTF, Excel, Scriba, HTML o PDFA. È possibile specificare l'intervallo di giorni per cui produrre un report contenente le informazioni precedentemente memorizzate nel calendario. La sezione Sincronizza, sulla base dei parametri SMTP indicati attraverso la funzione Strumenti, Impostazioni, Invio e-mail, consente, facoltativamente, di pubblicare il giornale dei lavori sulla piattaforma web presente all'indirizzo www.euclidegdl.it ed inviare a tutte le figure a cui avremo consentito di partecipare, ovvero contraddistinte dal flag partecipa al giornale dei lavori online, una mail contenenti dati di accesso, nome utente, password e dati del cantiere, al predetto sito per la gestione del giornale dei lavori. In tal modo i protagonisti dell'appalto potranno accedere con le loro credenziali alla piattaforma web e documentare l'andamento dell'esecuzione dell'opera per ogni cantiere cui l'utente è abilitato a partecipare. Soggetti e risorse non saranno modificabili nella pagina web, mentre sarà possibile creare o integrare informazioni relative a giorni presenti o nuovi, salvando i dati messi saranno riportati ed aggiornati a seguito di sincronizzazione anche nel file informatico di Euclide. L'avvenuto collegamento della pratica con il relativo cantiere web sarà confermato dalla dicitura presente in alto nella sezione del giornale dei lavori, eventualmente eliminabile con un doppio clic su di esso.